Controlli del nucleo, antisofisticazioni dei carabinieri nel Nisseno, chiusa un'industria. Tracollo provinciale della Lega, Oscar Aiello, il partito deve cambiare rotta. Tomaselli, Nissa Rugby, stadio non omologabile, rischiamo l'esclusione dal campionato di Serie C. Rinnovabili, la regione finanzia 301 comuni per costituire comunità energetiche. Verso la giornata mondiale della salute mentale, preparativi nel Nisseno. Le sculture di Leonardo Cumbo a Sydney. Il Milan Club Nisseno chiama raccolta i tifosi. Kart fervono i preparativi per il trofeo regionale. Calcio, la domenica delle Nissene. Ben trovati. Partiamo dai controlli del nucleo antisofisticazioni dei carabinieri nel Nisseno, chiusa un'industria conserviera sprovvista di autorizzazioni allo scarico. Vediamo il servizio. Disposta dal sindaco di Niscemi la sospensione dell'attività di un'azienda attiva nel settore delle conserve alimentari, con il titolare dello stabilimento che si è visto infliggere anche una multa di 12.000 euro. Un provvedimento è arrivato a seguito di un controllo dei carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa, i quali hanno accertato che l'industria niscemese lavorava in assenza dell'autorizzazione necessaria per lo scarico dei reflui di tipo domestico e dell'impianto di depurazione provenienti dal ciclo lavorazione dei prodotti agroalimentari, particolari che per gli investigatori costituiscono di fatto delle gravi violazioni in materia ambientale. La legge prevede che gli stabilimenti, per evitare l'insorgere di danni ambientali, abbiano precisi requisiti per ottenere le necessarie autorizzazioni in tema di vigilanza sui limiti degli scarichi inquinanti. Continuano serrati i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera che durante attività di verifica per reprimere gli illeciti in materia ambientale sul ciclo dei rifiuti nei giorni scorsi, dopo una comunicazione da parte di alcuni cittadini, hanno accertato l'abbandono e il deposito di quantità di rifiuti ingenti che consistevano in materiale di risulta, scarti ferrosi, fattiscenti, conglomerati, cementizi di vario genere in un terreno di Contrada d'Esussino, nel comune di Butera, a distanza di circa 300 metri dalla Battigia, zona di inestimabile bellezza ricca di svariate specie ervore che appartengono alla macchia mediterranea. Gli ufficiali e le agenti della Guardia Costiera di Gela, dopo una apposita attività di intelligence, sono riusciti a individuare il responsabile dell'abbandono e hanno provveduto a segnalare il tutto alla locale Procura della Repubblica, mettendo sotto sequestro l'intera area per un'estensione di 2.500 metri quadri. Parla di tracollo provinciale, Aiello, il capogruppo della Lega e dice che la Lega deve cambiare rotta il servizio. Si rivolge alla stampa il capogruppo della Lega a Palazzo del Carbine, Oscar Aiello, e lo fa partendo da una dichiarazione in cui dice che è necessario un cambio di passo rispetto ai risultati della ultima chiamata alle urne dei cittadini, che lui definisce come un vero e proprio tracollo. Dei dati che hanno visto il partito di Salvini con risultati negativi sul territorio nisseno, secondo il capogruppo, serviranno per approdare ad una nuova fase con un cambio di passo. Nonostante l'esito negativo delle elezioni che ha visto la Lega in provincia di Caltanissetta ultima nella coalizione centrodestra e ultima in Sicilia per percentuale, voglio comunque essere positivo e propositivo, suggerendo al partito una nuova fase di aprirsi all'associazionismo, al civismo, di ritornare di nuovo tra la gente per riconquistare il rapporto col territorio, con gli iscritti, simpatizzanti, militanti che vanno considerati non solo in campagna elettorale, ma nemmeno questo è venuto, ma anche nella normalità. Per cui mi farò promotore come gruppo consigliare, come capogruppo della Lega del Consiglio Comune di Caltanissetta, di iniziative per avviare una nuova fase e per riprendere quel contatto con i cittadini, con gli elettori che purtroppo abbiamo perso e che prima portava il risultato di positivo. Prosegue l'impegno di ANAS nel contrasto all'abbandono illecito di rifiuti lungo le autostrade e le strade statali siciliane di competenza. Dice nella nota il sistema di fototrappole e di videosorveglianza, già proficuamente attivato sulle pertinenze autostradali, è stato adesso attivato sulle strade statali che ricadono nelle province di Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani. Oltre alle operazioni di rimozione dei rifiuti che sono state eseguite dai comuni di Enna, Trappeto, Favara, Montallegro e Siculiana, si è provveduto anche all'installazione di 30 sistemi mobili di videosorveglianza. I trasgressori individuati saranno sanzionati, come prevede il codice della strada, adebitando anche i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, costi che provengono da eventuali danni al patrimonio stradale. Le statali su cui sono state già attivate le fototrappole sono la 113, la 115, la 117 bis, la 122, la 187, la 560 e la 640. Saranno installate anche sulle statali 123, 410, 410 dir, 188, 189 e 190. Quello delle fototrappole affianca il sistema di videosorveglianza che già esiste e che ha consentito ad oggi di elevare oltre 150 sanzioni. Parliamo adesso dello stadio Tomaselli. È la Nissa Rugby a dichiarare lo stadio non omologabile. Rischiamo con questo l'esclusione dal campionato di Serie C. Si vivono ore di grande tensione in casa di LF Nissa Rugby, che al suo quindicesimo anno di età rischia di non poter prendere parte ai campionati federali. La prima tegola si è abbattuta con il rinvio d'ufficio da parte della federazione della prima giornata del campionato di Serie C, a cui partecipa la società presieduta da Giuseppe Lo Celso. Lo stadio di Caltanissette e il Marco Tomaselli allo stato attuale non è omologabile. Se non si dovesse intervenire tempestivamente per porre rimedio al problema, la società nissena della palla ovale sarebbe estromessa dal campionato regionale. Una situazione incresciosa quella del Tomaselli se non dovesse essere sanata e se la DLF Nissa Rugby dovrebbe rinunciare completamente all'attività che sembra attualmente non avere una fine. Abbiamo contattato in merito l'assessore Fabio Caracausi che ci ha detto che si sta lavorando al meglio affinché la situazione e soprattutto lo sport esca vincitore da questa vicenda e si sta lavorando con entrambe le federazioni. Da oggi, lungo la careggiata in direzione Palermo sull'autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa l'area di servizio Sacchitello Nord che si trova al km 123-300 tra gli svincoli di Molinello ed Enna. La sospensione del servizio per sopraggiunte difficoltà economiche da parte del gestore dice in una nota l'ANAS riguarda sia il contratto in essere con Autogrill per la somministrazione di cibi e bevande sia quello con Eni per l'erogazione di carburanti. Si evidenzia, prosegue il documento, che lungo l'itinerario da Catania a Palermo resteranno attive le aree di servizio di Gelso Bianco Nord al km 189-100 e quella di Caracoli al km 29-500 distanti 160 km. Si presuppone che l'area di servizio di Sacchitello Nord possa essere riattivata entro poche settimane e che nella stessa area di servizio sarà in vigore un servizio di guardiania e security. Parliamo adesso di rinnovabili. Sono 301 i comuni che vedranno la possibilità di progettare la costituzione di comunità energetiche secondo quanto finanziato dalla Regione il servizio. 20.000 euro a Caltanissetta per realizzare i progetti e costituire tre comunità energetiche. I fondi stanziati della Regione finanzieranno 301 comuni, incluso quello nisseno, per traguardare l'obiettivo delle comunità energetiche. Così l'assessorato regionale delle energie e dei servizi di pubblica utilità al Dipartimento dell'Energia ha coinvolto i comuni della Regione che hanno aderito per sviluppare progetti che consentano la costituzione di almeno due comunità per territorio. Tra i capoluoghi di provincia e i contributi più alti sono stati assegnati alle città di Palermo per 63.398 euro e di Messina per 33.196 euro. A seguire Siracusa con 27.804 euro e Ragusa con 22.730 euro. A Caltanissetta vanno 20.867 euro, ad Agrigento 20.228 e enna 15.017 euro. Un elenco di comuni ammessi pubblicato con decreto dopo l'approvazione delle istanze che è consultabile sul portale istituzionale della Regione siciliana. I comuni ammessi alle agevolazioni potranno ottenere dal Dipartimento dell'Energia un'anticipazione del 40% del contributo totale e l'amministrazione regionale accompagnerà gli enti locali nelle diverse fasi del processo fino alla costituzione della comunità. Abbiamo presentato la nostra richiesta per avere un finanziamento per la progettazione di tre comunità energetiche sul nostro territorio che ci è stato accordato. Abbiamo avuto un finanziamento di circa 20.000 euro che serviranno per redigere i progetti per la costituzione delle comunità energetiche a Caltanissetta. È una cosa molto importante perché soprattutto in questo momento in cui la problematica dell'energia comincia a diventare così importante e diffusa anche tra la gente comune queste attività sono fondamentali per aiutare a risolvere seppur anche parzialmente però sono dei passi importanti per risolvere il problema energetico anche della nostra città. Una volta pubblicato il decreto di finanziamento il comune adesso potrà richiedere l'anticipazione del 40% costituire e predisporre gli atti per la costituzione della comunità energetica che dovrà essere approvato in consiglio comunale sarà emesso un apposito bando, una manifestazione di interesse per chiedere ai cittadini che vorranno partecipare alla comunità energetica e quindi di conseguenza avviare i veri e propri lavori per poterla realizzare. È in una nota che Caltacqua fa sapere che secondo quanto previsto dal piano operativo della pose in opera dei moduli radio sui contatori per la telelettura dei consumi idrici si continuerà appunto con i lavori, le squadre di Aqualia infatti da lunedì saranno più impegnate nel territorio del comune di Campofranco. le utenze interessate sono complessivamente più di 1.500 questi interventi sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e i lavori in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta saranno ultimati entro settembre 2023. Parliamo adesso della giornata mondiale della salute mentale ci sono i preparativi nel Nisseno. Lunedì 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale le strutture sanitarie nissene aprono le porte ai cittadini di tutte le età per consulti al Dipartimento di Salute Mentale di Via Chiarandà e per le donne all'ospedale Sant'Elia oltre all'installazione di tre Info Point che saranno operativi fin dalla mattina di lunedì al piano terra sempre dell'ospedale Sant'Elia in Piazza Falcone e Borsellino e al Parco Dubini tra gli eventi a corredo anche la serata musicale in un locale di Via Rosso di San Secondo a partire dalle 20 di martedì 11 ottobre. La giornata della salute mentale rappresenterà dunque un momento ulteriore di apertura alle persone che ritengono di avere bisogno di un aiuto esterno di tipo psicologico-psichiatrico e anche un'occasione di sensibilizzazione verso chi vede la necessità di un supporto come qualcosa che lo qualifichi come diverso come non normale, aspetti questi ultimi che purtroppo sono dettati da ignoranze e pregiudizi di una società che spesso si limita solo alla superficialità e all'esteriore. Ai nostri microfoni il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Caltanissetta Massimo Cacciola. Il Dipartimento di Salute Mentale in occasione della giornata mondiale della salute mentale aprirà le proprie porte di servizio ai cittadini di Caltanissetta affinché tutti possano liberamente venire a vedere come funziona un Dipartimento di Salute Mentale e in occasione della visita che potranno fare capire a che compito è preposto il Dipartimento. Il Dipartimento è preposto al compito di ascoltare l'altro l'altro che soffre l'altro che ha bisogno ed aiutarlo a comprendere la natura della propria sofferenza che alcune volte è intrapsichica alcune volte è sociale alcune volte è anche familiare e questo livello di comprensione è il passo iniziale per indicare la strada per uscire dal disagio per curare prendersi cura del disagio personale familiare e anche sociale ovviamente questo è possibile farlo a tre livelli del Dipartimento la salute infantile la salute degli adolescenti la salute mentale degli adulti e anche per quanto riguarda il campo delle dipendenze le dipendenze che non sono più soltanto le dipendenze sostanze ma anche le dipendenze comportamentali l'obiettivo altro del Dipartimento di Salute Mentale con questa giornata sarà quello di aiutare tutti i cittadini a liberarsi dallo stigma della patologia mentale e liberarsi anche dall'isolamento nel quale molte volte sono ricacciati dall'ambiente nel quale vivono dalle famiglie nelle quali abitano e nelle città che non sempre sono disposte ad accoglierli Si è concluso a Milano Maritma il sesto congresso nazionale di UIL pubblica amministrazione i lavori hanno visto un dibattito piuttosto acceso sulle problematiche le tematiche che riguardano il lavoro pubblico e le principali criticità della pubblica amministrazione italiana sono stati eletti i componenti effettivi del Consiglio nazionale Maurizio Giunta segretario generale di Caltanissetta Michelangelo Patanè segretario provinciale coordinatore organizzativo della comunicazione e contestualmente Lucia Maruzzelli componente della segreteria provinciale è stata eletta nel coordinamento nazionale beni culturali ed ambientali ora parliamo di arte le sculture di Leonardo Cumbo arrivano a Sydney alla mostra internazionale Sculpture by the Sea dal 21 ottobre al 7 novembre una scultura di notevole dimensioni e altre due più piccole dell'artista italiano Leonardo Cumbo sono state selezionate per la mostra internazionale Sculpture by the Sea che inizierà il prossimo 21 ottobre e terminerà il 7 novembre a Sydney in Australia inaugurata con le barchette di carta di Maurizio Perron e proseguita con le voluminose installazioni in acciaio inox di Silvia Tucci Mei quella tra Sculpture by the Sea e l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney è una ormai collaudata collaborazione che va avanti da un decennio e che dopo una pausa di due anni causata la pandemia si rinnova anche quest'anno per portare in Australia l'opera dell'artista nisseno Sculpture by the Sea fondata nel 1997 può essere considerata una delle più grandi esposizioni al mondo con opere provenienti dai cinque continenti che attira l'attenzione di critici internazionali con elevatissime presenze di pubblico per l'evento che si tiene ogni anno lungo la passeggiata costiera fra Bondi e Tamarama Leonardo Cumbo ha creato ben tre sculture una scultura di notevole dimensioni per l'esposizione esterna intitolata Trap for Dreams e due piccole per l'esposizione Sculpture Inside intitolate Dreaming to Fly Number One e Dreaming to Fly Number Two Il corpo forestale della regione siciliana da mezzo secolo al servizio del territorio lunedì 10 ottobre alle 11 a Palazzo Orlean in Sala Alessi si presenterà la storia di questa istituzione attraverso documenti aneddoti testimonianze in una raccolta di immagini interverranno l'assessore regionale al territorio dell'ambiente Totocordaro il dirigente generale del comando del corpo forestale della regione siciliana Giovanni Salerno i capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste e ora parliamo di calcio il Milan Club Nisseno chiama a raccolta i tifosi rossoneri e rinnova il consiglio direttivo negli ultimi anni il Milan Club di Caltanissetta di Via Gorizzi è diventato un punto di riferimento per tanti tifosi rossoneri e il direttivo rinnovato nei giorni scorsi mira a coinvolgere ancora più persone legate dall'amore per il calcio e per la squadra allenata attualmente da Stefano Pioli intendi chiari che il riconfermato presidente del Milan Club Carmelo Milazzo ha delineato nel corso dell'ultima assemblea dei soci che ha sancito la sua riconferma al vertice ad affiancarlo saranno il vice presidente Rosario Giuliana storico tifoso rossonero il segretario tesoriere Giorgio Cantella i componenti del direttivo Calogero Amico Rocco Pesce Rino Carlino Angelo Foderà Andrea Andolina Marcello Dell'Aira e Giancarlo Palmeri l'aggregazione tra i componenti del club passerà non solo da iniziative locali ma anche dalla partecipazione alle gare casalinghe e anche alle trasferte del Milan in varie occasioni lo striscione del Milan Club Caltanissette è apparso sulle tribune dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e la scorsa primavera ha campeggiato pure sul palco allestito in piazza Garibaldi in occasione della vittoria dello scudetto milanista ai nostri microfoni il presidente del Milan Club Carmelo Milazzo e il componente del direttivo Rino Carlino Milan Club nasce parecchi anni fa per volere mio di Rosario Giuliana il dottore Di Benedetto Giancarlo Palmeri siamo riuniti e abbiamo deciso di fondare il Milan Club peraltro l'abbiamo fondato in un periodo dove il Milan non andava per niente bene dove ogni partita era un'agonia ma essendo tifosi abbiamo sempre creduto in questa nostra iniziativa tant'è che oggi il nostro Milan Club ha circa 70 associati e facciamo tantissima attività soprattutto sociale nel vedersi le partite quindi è un motivo anche per stare tutti insieme e facciamo anche delle igiene sociali con le famiglie quindi è anche un motivo di coinvolgere tutti quelli che ci stanno vicino e soprattutto è quello di andare a vedere le partite in trasferta abbiamo una bella realtà voglio parlare di questo spero che anche dopo questo intervento vostro della vostra televisione che molti si avvicinino magari per chiedere magari per la curiosità poi ecco il nostro intendimento è questo è un ambiente sano un ambiente amicale lo chiamo io avviciniamoci e ti fiamo per questa grande squadra a prescindere dai risultati che poi vengono i risultati e verranno continuiamo con un'altra disciplina sportiva si parla di kart a Caltanissetta fermano i preparativi per il trofeo regionale e il servizio nell'atrio di Palazzo del Carmine si è tenuta la conferenza sulla quinta gara trofeo regionale a livello nazionale di kart che si terrà sabato 8 e domenica 9 ottobre alla presenza del vice sindaco grazie a Gian Musso e dell'assessore allo sport Fabio Caracausi sono intervenuti piloti e organizzatori della gara che partirà da via salvo d'acquisto e che toccherà le vie Aldo Moro via Palmiro Togliatti e per finire antistante alla scuola Don Milani dove saranno allestiti i box ci saranno 80 piloti divisi in diverse categorie di età e di gara dove si daranno battaglia nel circuito che misura 835 metri e che è stato definito la piccola Monte Carlo ho partecipato a tante gare di campionato regionale vincendo anche dei titoli a gare di campionato nazionali e oggi sono il titolare di una scuderia la S Russo Motorsport gestisco un KZ karting team cioè vuol dire seguo ragazzi tra virgolette adulti dai 18 in su la gara sarà si inizierà il sabato il sabato pomeriggio con delle prove libere avremo due turni e la domenica avremo un altro turno di allenamento le qualifiche che comparranno lo schieramento di partenza e dopo le 14 ci sarà il via spero 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 la gente possa divertirsi sarà un evento spettacolare e soprattutto sicuro il percorso è un percorso molto tecnico si svolgerà attorno diciamo alla parrocchia di San Paolo tra via Aldomoro via Togliatti via Don Minzoni e via San Vodacquisto è un percorso diciamo molto tecnico con delle varianti importanti in salita con delle sciganne che serviranno anche per smorzare la velocità dei direttilini insomma abbastanza intrigante come diceva qualcuno dei partecipanti qui alla conferenza stampa dei piloti che saranno i veri protagonisti che dire una nota tecnica la voglio dare ai residenti del quartiere avranno possibilità di poter entrare e uscire liberamente dalle loro abitazioni nei momenti in cui ci saranno diciamo i barchi aperti tra una prova e l'altra quindi la durata di 8-9 minuti quindi avranno possibilità di poter continuare regolarmente la loro giornata sia diciamo di lavoro che anche di sbago per quello che riguarda invece la parte più sportiva insomma un bocca al lupo ai nostri team ai nostri piloti sportivi nisseni che comunque sicuramente battaglieranno alla grande sperando di conquistare i primi piazzamenti dell'era in podio e ora entriamo nel cuore della competizione calcistica sarà la domenica delle nissene in programma San Cataldese a Cireale e Pro Favara a Nissa archiviata la sconfitta di La Mezzia la San Cataldese si appresta ad affrontare la prossima partita per la quinta giornata del Gironei di Serie D i Verdi Amaranto giocheranno domenica alle ore 15 tra le mura amiche del Valentino Mazzola contro la Cireale un avversario blasonato che banta trascorsi anche in Serie B che punta a un campionato di vertice gara non facile per la squadra di Matteo Vullo che alla Mezzia contro la prima della classe ha comunque dimostrato carattere e personalità il quadro degli incontri in programma Catania Castrovillari Trapani Cittanova Licata Locri Santa Maria Canicattì Ragusa Sant'Agata Realla Versa La Mezzia San Luca Paternò San Cataldese Acireale Vibonese Mariglianese In eccellenza domenica alle 15.30 la Nissa sarà impegnata a Favara dopo la prima vittoria stagionale in casa con la Parmonval negli ultimi giorni dopo l'esonero dell'allenatore Tudisco alla Pro Favara è arrivato un nuovo tecnico è Gaetano Catalano che commenta così sulla pagina Facebook Grigentina il prossimo impegno contro la formazione biancoscudata La Nissa ha cambiato una settimana fa allenatore e le persone che conosco conosco anche abbastanza bene è una squadra una squadra tosta una squadra che ha cambiato anche il modulo da 4 3 è passata a 3-5-2 e insomma sicuramente dopo la vittoria domenica con il 4-0 sarà di nuovo ha preso di nuovo quell'entusiasmo che la porta magari a venire qua con un piglio diverso invece noi dobbiamo stare veramente pronti attenti perché il passato è passato bisogna cambiare un po' pagina e bisogna cambiare anche quello che è il nostro opinione di marcia intanto mi fa piacere di essere qua in questa società importante perché non vuol dire essere a porta nei bilettanti però è una società abbastanza pronta preparata gente qualificata e professionista io credo che chiedo ai tifosi di starci vicino perché secondo me piano piano possiamo togliere le soddisfazioni il quadro completo delle partite della quinta giornata Cus Palermo Don Carlo Castellammare Leon Fortese Parmonval Casteldaccia Acragas Oratorio Marineo Enna Sciacca Gela Resuttana Profavara Nissa Mazzarese Mazzara Questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo alle informazioni di pubblica utilità Amici trebi meteo bentornate a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di sabato che ancora nel complesso sarà bella in gran parte d'Italia anche se una debole zona di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale si avvicina alle nostre isole maggiori e anche correnti più fresche dal nord Europa cominciano a lambire l'arco alpino controviamo la nuvolosità attesa sull'Italia notiamo appunto delle nubi che dal Mediterraneo occidentale si avvicinano all'Italia e poi quest'altra banda nuvolosa che copre le Alpi nel corso della giornata per il resto poco da segnalare anche come precipitazione arriverà sì qualche piovasco sull'arco alpino specie però sulle cime di confine e qualche coccione di pioggia comincia a farsi vedere sulla Sardegna quindi in definitiva giornata comunque nel complesso bella in gran parte d'Italia però con un graduale aumento della nuvolosità in Sardegna a fine giornata come vi dicevo arriva anche qualche pioggia l'arco alpino vedrà arrivare qualche nuvole in più prime piogge sulle cime di confine poi domenica vi anticipo arriva qualche pioggia in più anche al nord ovest per il resto sole e temperature sempre molto mitti tocchiamo i 25 gradi per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi consultate l'app di Trevi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno Scarantino via Paolo Emiliani Giudici servizio notturno La China via Fraggia Ratana Grazie a tutti